Ragazzi, allora... Raga... C'è gente che dorme, ci sa che c'è sì... È notte... C'è anche la replica di RGB! Ma chi è che dorme sulla replica? Nessuno! La cazza è già colassata! Io non mi sono mai addormentato sulla replica! Joey, a che ora va questa replica? Che ora fa! Va beh, la trovate su Antenna Blu! Chi dorme? Chi dorme? Buonanotte! Chi dorme non pecca! Chi dorme c'è le piattole! Chi do... T kriege la piare che nocino succede? fasten A te, a te!